Siamo entrati nell'euro, i tassi di interesse sono scesi, con tassi di interesse più bassi la gente prendeva più soldi a prestito, quindi spendeva di più e questo metteva pressione sull'inflazione. Quello che normalmente si fa in questo caso è che lo Stato spende di meno, proprio per compensare il fatto che il settore pubblico, il settore privato spende di più. Quando noi siamo entrati nell'euro invece lo Stato italiano ha accelerato la propria spesa, quello è stato il secondo governo Berlusconi, ha accelerato molto la spesa pubblica dopo il 2000, anzi dopo il 99, perché? Perché i tassi di interesse sono scesi sul debito pubblico, allora si è detto non abbiamo più un problema del debito pubblico e lo Stato può ricominciare a spendere. Negli anni 80 avevamo messo un po' a posto i nostri conti pubblici, negli anni 90. Negli anni 2000 il secondo governo Berlusconi ha ricominciato a spendere e soprattutto sono aumentati molto gli stipendi dei dipendenti pubblici, quindi portando per effetti di imitazione un aumento agli stipendi anche del settore privato.